Ciao sono Lorena Zaffalon e sono la direttrice tecnica del Syncro Camp dal 2013. Seguo quotidianamente le nostre ragazze sia dal punto di vista tecnico che artistico. Le nostre atlete si allenano in acqua due volte al giorno, la mattina nella piscina scoperta delle vele mentre il pomeriggio si allenano nella piscina interna olimpica. Durante gli allenamenti cerchiamo di curare tutti gli aspetti della tecnica con lavori specifici ma anche gli aspetti coreografici ed espressivi con sessioni di allenamento dedicate. Inoltre durante la settimana costruiamo proprio insieme a loro gli esercizi e le coreografie che presenteranno la domenica mattina durante l'esibizione finale al termine del camp. Durante la settimana faranno anche più sessioni di functional activity e inoltre dei laboratori dedicati all'espressività corporea. Le ragazze oltre agli allenamenti avranno anche del tempo libero dove potranno andare al mare, agli acquascivoli e divertirsi insieme alle loro amiche in totale sicurezza.